Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video della rubrica lezioni di pianoforte. Questo è l'episodio numero 6 e oggi vi farò ascoltare due esercizi, uno di nome l'aurora e l'altro di nome la ballerina. Sono tutte e due in posizione di fa e solo la ballerina invece è in fa maggiore, in tonalità di fa maggiore. Quindi iniziamo subito e buon ascolto! Buon ascolto! Perfetto! Ora vi farò ascoltare l'esercizio la ballerina. Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! vi siano piaciuti e ci rivediamo ad un prossimo video e sicuramente l'episodio numero 7 starà cantato e suonato quindi vi aspetto ciao